Buongiorno ragazzi, all'interno di questo video oggi parliamo delle otto cose da conoscere, da sapere prima di partecipare ad un'asta giudiziaria. Ormai faccio questo dal 2010, quindi conosco abbastanza bene quelli che sono i processi e i meccanismi e tutto ciò che c'è dietro ad un'asta giudiziaria. Facendolo in modo etico, perché è la prima cosa che a me interessa e spero interessi anche a voi. Se vi interessano questa serie di video, se vi interessa l'argomento, quindi capire come fare uno straccio immobiliare, capire come funzionano le aste, tutti i meccanismi che ci sono dietro, le varie psicologie che ci sono, ti invito a lasciare un like a questo video e a iscriverti attraverso la campanella di YouTube per ricevere poi altri video simili a questo o che vanno ad approfondire alcuni argomenti. La prima cosa da sapere è che le aste giudiziarie nascono perché c'è qualcuno che non rispetta un accordo. Ormai dal 2010 si sta sfatando sempre di più il concetto che chi partecipa ad un'asta giudiziaria generalmente viene visto come uno squalo, un avvoltoio. Questo accadeva una volta, adesso non accade più o meglio, accade sempre meno, quasi tra qualche anno arriveremo così come ormai avviene da decenni in America, che ormai si sa che la causa per il quale ci sono le aste giudiziarie è perché c'è qualcuno che non ha rispettato un patto. Se qualcuno non rispetta un patto, nei vostri confronti, un accordo, come vi sentite? Vi sentite che volete fare in modo di recuperare ciò che avete perso? Provate a pensare quando non c'è un contratto di mezzo, ma c'è una semplice parola o addirittura una stretta di mano che un tempo valeva qualcosa, oggi purtroppo per qualcuno, anzi per molti vale poco, però provate a pensare quando non c'è un accordo scritto ma c'è un accordo verbale e voi prestate dei soldi a qualcuno e poi questa persona non ve li dà più. A quanti di voi è capitato? Scrivetelo qui nei commenti. Quando c'è un contratto di mezzo, per esempio tra una banca e un privato, oppure tra due aziende, oppure tra un professionista e un privato, è chiaro che questo accordo deve essere rispettato e nel momento in cui viene erogato un servizio, viene venduto un prodotto, viene fatto un prestito di denaro, per esempio pensiamo al mutuo, è chiaro che questo accordo deve essere rispettato perché c'è qualcuno che ha dato, ha fornito un prodotto, un servizio, un qualcosa, verso qualcun altro, verso un soggetto Y ed è chiaro che il soggetto Y deve in qualche modo rispettare quel contratto. Quando questo accordo viene meno da parte del soggetto Y dopo che il soggetto X ha dato un servizio e un prodotto è chiaro che il soggetto X procede nel recuperare per vie legali quello che è ciò che gli spetta e poi è chiaro che le aste giudiziarie sono una conseguenza soprattutto quando parliamo di cifre importanti. Quindi la prima causa è che dietro a un'asta giudiziaria c'è alla base un concetto fondamentale che un soggetto X ha dato un servizio e un prodotto a qualcuno e il soggetto Y non ha rispettato quell'accordo che è stato sancito attraverso un contratto. Il punto numero due da conoscere prima di partecipare a un'asta giudiziare è che chi investe, chi compra grazie al mercato delle aste e quindi mette liquidità nel mercato delle aste in realtà è una persona da ringraziare perché provate a pensare a un immobile vuoto, un immobile che deperisce, quanto fa svalutare il mercato intorno a sé in una determinata zona. Provate a pensare a un'azienda, a un'azienda dove all'interno ci sono dei materiali casomai materiali che vanno in decomposizione oppure c'è un terreno che potrebbe essere sfruttato per migliorare una parte di una città, per migliorare un quartiere e non possono essere utilizzati non possono essere rimessi a posto queste strutture semplicemente perché c'è un blocco come se ci fosse una gabbia, una gabbia immaginare intorno a questo immobile però stessa cosa vale per i beni mobili, chiaramente, quindi provate a pensare alle auto provate a pensare a qualsiasi cosa che abbia a che fare con i beni mobili e quindi intorno a questo immobile c'è questa gabbia che chiude, blocca l'accesso o la riqualificazione di queste strutture. Quindi chi mette liquidità cosa fa? Non solo dà vita di nuovo a una struttura chiaramente ottiene dei vantaggi che lo compra a un prezzo migliore rispetto a quello che potrebbe valere però bisogna sempre vedere quanto vale in quel momento e quanto vale la ristrutturazione però è chiaro che chi mette liquidità dà vita di nuovo a una struttura e potenzialmente può utilizzare quella struttura per dare lavoro ma la cosa importante è che grazie alla liquidità di questo investitore, del compratore se voi volete comprare in asta, la cosa importante è che grazie alla liquidità a questi soldini il tribunale può soddisfare perché ricordatevi che dietro c'è sempre il creditore X come nel punto numero 1, può soddisfare nel totale o in gran parte quella che è la richiesta del creditore X che deve ancora avere dei soldi e lo fa grazie a chi compra molto, anzi alcune volte succede che grazie alla liquidità si riesce a pagare il creditore e si riesce addirittura a far rimanere qualcosa anche nelle tasche del soggetto Y, quindi del debitore quindi chi compra all'asta deve essere visto dal mio punto di vista deve essere visto, guardato e percepito come una persona che o un'azienda che sta facendo solo del bene non solo alla comunità ma anche all'economia e anche chiaramente alle persone che ci sono dietro quindi chi ci lavora nel tribunale, chi ci lavora nell'azienda del fornitore X o addirittura del debitore Y la terza cosa da sapere è che in ogni vendita all'asta c'è un avviso di vendita, quindi un regolamento c'è una perizia che la carta d'identità di tutto l'immobile o gli immobili c'è una planimetria da poter utilizzare da poter consultare nel momento in cui volete comprare un immobile ci sono a volte, molto spesso devo dire, anche delle fotografie questi documenti sono fondamentali perché aiutano chi sta comprando o chi vuole comprare a fare un'analisi approfondita il mio suggerimento è sempre quello di non basarti solamente sul prezzo perché il prezzo può essere ingannevole molto spesso non viene fatto apposta, però chiaramente chi valuta un immobile non sempre lo valuta nella maniera corretta e soprattutto se può capitare, se viene valutato nella maniera corretta quindi con una perizia fatta a un prezzo giusto quindi viene dato un prezzo giusto può essere che dietro si insedino altri creditori quindi altri soggetti X oppure ci sono delle cose da conoscere come parte della ristrutturazione come smaltimento di materiale, come dei limiti di costruzione o ricostruzione quindi ci possono essere dei paletti o addirittura abusi edilizi che spesso vengono sanati, ma molto spesso no quindi bisogna conoscere bene i documenti, affidarsi a chi lo sa fare e chi bazzica nel mercato delle aste giudiziarie fa solo questo non sono tutti chi si focalizza sulle aste giudiziarie fa solo quel tipo di lavoro per esempio noi nella nostra struttura aste giudiziarie strategi si occupa di aste lo fa in modo etico, conosce tutte le strategie ed è l'unica soluzione come strategia alle aste giudiziarie sia per chi compra, sia per chi si vuole togliere per esempio il debito e noi lo facciamo in modo etico quindi i documenti sono fondamentali se volete partecipare da soli potete provare ma occhio a non farvi male perché ci sono dei casi in cui chi compra all'asta pensa di aver comprato un prezzo vantaggioso e poi si ritrova che ci sono dei costi aggiuntivi si ritrova che ci sono delle spese in più si ritrova che una volta comprato l'immobile non è ciò che si aspettava perché casomai compra una porzione a volte non può entrare nell'immobile prima di una determinata data ci sono tanti paletti da valutare non è un'operazione semplice per questo il mio suggerimento è sempre quello di affidarvi a chi lo sa fare e se vi è capitato una situazione del genere dove avete comprato in asta e poi avete avuto chiaramente delle spese dopo scrivetelo qui nei commenti o se vi è capitato di bloccarvi prima di partecipare a un'asta perché avevate qualche dubbio scrivete qui sotto nei commenti la vostra domanda perché la quarta cosa da sapere è proprio questo cioè se ne vale la pena veramente comprare quell'immobile c'è una ristrutturazione da fare c'è un... ci sono delle cose da sapere dovete capire bene quali sono i limiti la quinta cosa da sapere è che se sbagli alcune fasi importanti non solo dell'analisi ma anche per esempio la domanda di partecipazione rischi di non partecipare a quell'asta perché puoi essere assolutamente escluso avere la disponibilità economica non è l'unico... l'unico tassello importante per partecipare all'asta ma c'è un lavoro dietro c'è tanto lavoro dietro per poco come l'iceberg dove sotto c'è tutto quello da sapere c'è tutto il lavoro da fare la punta è solamente il risultato quello che vediamo quello che vedi fuori dall'acqua è il risultato di tutto ciò che c'è sotto quindi avere i soldi è uno dei processi sì per capire se si può partecipare ma prima di arrivare a quello bisogna capire se ne vale la pena e quando ne vale la pena quando decide di partecipare dovete stilare bene i documenti perché la documentazione è la parte fondamentale se non presentate bene la documentazione e omettete qualcosa anche un piccolo cavillo rischiate di perdere un investimento o un affare la sesta cosa da sapere è che offrire meno della base d'asta ti permette di essere escluso offrire di più non è sempre la chiave vincente perché se l'offerta è inferiore al minimo consentito sei fuori dal gioco bisogna fare un'offerta giusta capire quali sono i parametri da prendere in considerazione e poi agire la settima cosa che devi conoscere è che ci sono delle regole per esempio per il saldo dell'asta e non puoi ovviare a queste regole cioè non puoi per esempio andare oltre quello che è un tempo già prestabilito per il saldo del prezzo una volta che ti sei aggiudicato l'immobile quindi quando sei alla fine innanzitutto per avere il decreto di trasferimento il primo possibile quindi questo ti consente proprio di entrare in possesso dell'immobile nel minor tempo possibile dopo che hai saldato il prezzo cioè il decreto di trasferimento qualora ove l'immobile fosse libero disponibile già da subito a meno che non ci sono dei vincoli quindi occhio riguardati i punti precedenti di quello che ho detto perché devi fare molta attenzione prima di partecipare a un'asta giudiziaria molte persone si rendono conto di aver fatto un cattivo acquisto una volta che si sono agiticati l'immobile o un bene mobile è uguale alla stessa cosa e omettono il pagamento del saldo del prezzo non solo entro una certa data ma omettono proprio di farlo e quando è successo si incorre in quella che è la legge quindi ci sono delle pene da pagare perché questa viene chiamata turbativa d'asta cioè la legge vede questo comportamento seppur in maniera tra virgolette pacifica diciamo così quindi non volontaria in qualche modo perché ci si è resi conto di aver fatto una fesseria nell'acquistare quel determinato bene oppure per un motivo X non si riesce più ad avere la liquidità la turbativa d'asta è sanzionabile a livello penale quindi si rischia veramente tanto non solo a livello economico ma si rischia anche di andare in prigione in alcuni casi quindi occhio a queste cose qui perché sono cose molto delicate dietro vi ricordo che ci sono dei creditori c'è qualcuno che in questo caso è il tribunale che tutela con la legge il signor X e il signor Y in molti casi proprio per dare la rimanenza dei soldi di quello che voi state mettendo come liquidità quindi occhio alle tempistiche occhio ad avere prima i soldi occhio a usare quelle strategie che per esempio ai nostri clienti facciamo utilizzare anche nel momento in cui una persona vuole per esempio un mutuo se vi è capitato vi è capitata una situazione del genere qualcuno vicino a voi che ha affrontato questo problema che cosa le è successo? scrivetelo qui nei commenti come se ne è uscito eventualmente? scrivetelo qui nei commenti o se vi è capitato di non poter partecipare ad un'asta perché non avevate la liquidità e non sapevate come fare scrivetelo anche qui nei commenti quindi date anche la vostra esperienza l'ottava cosa da conoscere l'ultima è che se comprate dei beni mobili faccio esempio attrezzature o auto o qualsiasi altra cosa che sia un bene mobile per esempio nel mio libro ho raccontato quando ho comprato una cucina una cosa che io stesso ho affrontato per mia esperienza è che bisogna mettere nel preventivo che lo sgombero è a carico di chi compra invece nel caso del bene immobiliare quindi di una casa quello che dovete sapere è che non è a carico vostro quello che eventualmente è lo sgombero dell'immobile se ci sono delle persone all'interno però una cosa che mi preme sottolineare è che perché Aste Giudiziare e Strategi è la strategia perfetta a livello nazionale per le Aste non perché lo dico io perché sappiamo esattamente come comportarci come fare prima di non solo partecipare all'asta o di aggiudicarcela ma prima ancora di decidere di partecipare perché riusciamo a non avere mai questi problemi con i nostri clienti cioè non abbiamo mai il problema di sgomberare l'immobile in maniera forzata perché riusciamo in modo etico non solo ad aiutare chi sta all'interno riusciamo a fare in modo di poter non avere problemi dopo e quindi le persone che comprano gli immobili in asta attraverso la nostra struttura non hanno mai di questi problemi chi non chi fa o prova a fare il fai da te o si affida solamente eventualmente a un avvocato di conoscenza al cugino commercialista che provano a fare a seguire le istruzioni che ci sono sui documenti e a partecipare così senza capire tutta la mole di lavoro non solo tecnica ma anche psicologica che c'è dietro e che va utilizzata ci si ritrova poi con il problema del sgomberare l'immobile casomai all'interno ci sono delle persone ci sono dei figli ci sono delle persone disabili ci sono degli anziani non sempre così perché molto spesso gli immobili sono vuoti oppure le persone che sono all'interno non vedono l'ora di liberarsi di quell'immobile però c'è una situazione in cui chi è all'interno vorrebbe una mano quindi come si fa questo noi lo facciamo i nostri clienti quindi non si può poi andare a rincorrere il veterinario o il canile o la polizia cinofila o chiunque abbia a che fare con gli animali generalmente veterinari o l'ASL molto spesso per liberare un immobile perché all'interno ci sono degli animali per esempio oppure liberare le persone con la forza pubblica sono situazioni spiacevoli che io a me non va mai di percorrere ok e proprio per questo ho imparato come evitare tutto ciò e far sì che i nostri clienti nel giro di 30 giorni già entrano nell'immobile possono utilizzare l'immobile possono stare tranquilli e siamo certi di non avere mai nessun problema di non arrivare mai a utilizzare le maniere forti che utilizzano gli altri lasciamoli agli altri noi non facciamo questo quindi è molto importante capire però che se vi trovate in una situazione del genere se vi siete trovati scrivetelo qui nei commenti che cosa è successo come avete fatto scrivetelo qui nei commenti è da sapere che non è a carico vostro quindi se reoccuperà il delegato alla vendita o il curatore fallimentare in questo caso quindi lasciate qui sotto le vostre domande le vostre esperienze se volete essere aggiornati per i prossimi video iscrivetevi a questo canale lasciate un like a questo video se lo ritenete importante o se vi è stato utile soprattutto se avete necessità di contattarci trovate dei link qui sotto trovate dei link che vi potranno aiutare a mettervi in contatto con noi oppure potete semplicemente scriverci un'email e noi vi aiuteremo a seconda di quello che è il vostro problema o la vostra esigenza quindi io sono Alessandro Perilli ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao